E già raga, finito Sanremo, è arrivato il momento del GF Paolino, I'm waiting for you e quando dico for you dico poco for you, for you for you poi tra l'altro molti di voi mi hanno chiesto un parere cosa ne pensassi della love story tra Paolino e Clizia allora, innanzitutto bisogna vedere in primis se è una love story vediamo non ci allarghiamo subito e in seconda sete dico che questa sera io che lo conosco abbastanza bene sotto questo punto di vista vorrei capire quanta profondità c'è tutto qua ecco perché non mi sono ancora espresso e come vi piace il gossip capiremo, capiremo tra poco GFB Paolino e comunque forza Paolino allora voglio rispondere un attimo a una page che non voglio nominare perché se no magari chi la pensa come me subisce insomma delle critiche io non è che ho messo in discussione ho messo in dubbio la veridicità dei sentimenti di Paolo ci mancherebbe altro io non sono nessuno per mettere in discussione ho semplicemente dato il mio parere in risposta a tutte le domande che mi sono mi si sono poste e che mi avete fatto quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole io lo faccio perché mi è stato chiesto da diversi di voi un parere visto che sono un amico di Paolino e ho dato una risposta a tutto qua state calmi state tranquilli l'amore prima di tutto sono il primo a sostenerlo ok? chiaro vediamo